Come state? Ben ritrovati, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, numerosissimi mi raccomando, attenzione, 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 perché il futuro di Mignan oggi al Milan, domani vedremo, è chiaro che a scanso di equivoci non partiranno le auto di Hernandez e Mignan, però uno partirà, e attenzione perché il Milan si sta guardando attorno nella possibilità che Mignan possa partire, Abbiamo già parlato di Ramsdale, dell'Arsenal, profilo che il Milan segue da diversi mesi, ne abbiamo parlato per primi qualche mese fa, negli ultimi giorni l'ha parlato anche la stampa inglese come opzione per il Milan, per il dopo Mignan, con cui i dialoghi per rinnovo proseguono, ma al momento non si sta trovando la quadra Dall'altra parte cedere Mignan magari può essere il sacrificio per tenere Teo e una riflessione forse anche di fronte ai sui continui problemi fisici va fatta L'altro nome che circola oggi è quello di un giocatore del Nizza, Ligan, da dove è arrivato appunto il buon, ottimo Mignan Che secondo la stampa polacca il Milan sta seguendo per il dopo Mignan, è Marcin Bulka, giocatore del Nizza con contratto di scalenza nel 2026, costa una ventina di milioni di euro, alto 1,99, 25 anni li farà a ottobre, 17 clean sheet quest'anno e una carriera ha cresciuto nei giovanili del Chelsea, poi è passato al PSG, poi ha fatto il percorso che l'ha portato appunto al Nizza con ottimi risultati E' probabile che il Milan possa andare a pescare ancora una volta il Ligan come spesso fa Moncada, Bulka lo conosciamo, profilo molto interessante per quanto mi riguarda, forse mi stuzzica un po' di più anche rispetto a Ravestel che ha più esperienza e che conosce Fonseca che quest'anno l'ha avuto da avversario appunto il Ligan Ditemi che ne pensate, se può essere Mignan il sacrificio più sacrificabile, concedetemi questa espressione, lasciate un bel like, commentate numerosi e iscrivetevi da questa parte se non lo avete ancora fatto, attivate anche la campanella, un abbraccio